Eppure noi volevamo volare, c'è una materia che non si può insegnare, fatta di attimi che fu contro le dita, in un libro bianco chiamato vita, per un nostro tempo finisce qui, di cielo è caduto, di giovedì, e non vedremo più il nostro domani, per sempre giovani, per sempre uguali, e non vedremo più il nostro domani, per sempre giovani, per sempre uguali. Ciao, sabato 28 ottobre, invito tutte le classi, insegnanti, studentesse e studenti delle scuole superiori della nostra città, e non solo, della città metropolitana, a partecipare al Memorial Dario Lucchini. È la seconda edizione, lo scorso anno è stata un'edizione bellissima, proprio al Centro Sportivo Lucchini, dedicato a questo ragazzo che non c'è più, sarà una bella festa anche quest'anno, la faremo all'arcoveggio, e sarà un momento per ricordare e per divertirci insieme attraverso lo sport. Vi aspetto.